Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo, iniziamo dal segno dell'ariete. Siete pronti a difendere i più nobili ideali, ma ahimè scivolate sulla buccia di banana dei più meschini contrasti in famiglia o nella coppia, siate più coerenti. Toro, avete solo l'imbarazzo della scelta e se vi sentite pronti, non esitate, abbandonate senza dubbi il vecchio per il nuovo, potrete avere una bella soddisfazione sul piano professionale. Gemelli, è il momento di mollare gli ormeggi e di presentare il vostro progetto a chi dovrà seguirlo o finanziarlo. Anche in amore saprete trovare le giuste parole e i giusti atteggiamenti per farvi coccolare. Cancro, inizio di settimana strepitoso, sfruttate ogni occasione per mettere in luce voi stessi e il vostro operato. Leone, ormai avete le idee molto chiare su quanto volete ottenere e sui cambiamenti ormai indispensabili per raddrizzare una situazione compromessa da troppe contraddizioni e incertezze. Vergine, un'occasione mondana sarà lo spunto per allacciare nuovi rapporti, allargando così il vostro giro di conoscenze. Qualcuna vi porterà ottime chance d'affari e di relazioni professionali. Bilancia, calda intesa di coppia che colorerà di rosa qualunque attività abbiate programmato. Lasciatevi portare dal cuore senza analizzare troppo a tavolino, alla fine vi troverete nel posto giusto. Scorpione, la luna non vi aiuta a raggiungere la sufficiente serenità per capire che cosa gli altri si aspettano da voi, soprattutto al lavoro, quindi non potete pretendere risultati immediati. Sagittario, ormai potete mettere il countdown, Giove si avvicina a grandi passi al vostro segno e già cominciate a vedere i primi segni di un totale e vincente rinnovamento. Capricorno, avete tutte le carte in regola per gettarvi in un investimento finanziario di un certo peso o per convincere colleghi e superiori a seguirvi in un ambizioso progetto, qualche incomprensione nella vita di coppia. Acquario, illusioni e complicazioni nascono dalla vostra difficoltà a comunicare quello che provate e a capire i sentimenti altrui, cautela al lavoro e soprattutto alla guida dell'automobile. Infine il segno dei pesci, non prendetevela e soprattutto non tormentate il partner con un atteggiamento che non merita. Prima di esporre idee e progetti a colleghi e superiori, organizzatevi il discorso mentalmente. È tutto per l'oroscopo, grazie per l'ascolto e buona giornata. Grazie a tutti.